Ma secondo me si affronta una patrista. Comunque basterebbe però sciogliere la corda di caida e cominciano a cadere. Incredibile ma vero. Facciate le corde. Bravo, facciate le corde. Vabbè non c'è pericolo di... ...la corde la corde... ...la corde la corde... Ora, è chi sei qui mageno, tu manque un sacco di potesia... ...la corde... ...c'è un calcio, pericolo. ...ma diciamo... ...che sono un destino... ...c'è un calcio in palco... ...ma me... ...ma me esi... ...e un calcio... ...ma me esi... ...com'è un calcio... ... Grazie a tutti Grazie a tutti